we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi porca di quella porca con l'aggiornamento di ieri mattina la patch 8.51 sono arrivate anche delle informazioni davvero super interessanti riguardanti ovviamente l'evento che si svolgerà in questi giorni di chiusura della season numero 8 ho delle cose davvero incredibili da farvi sapere nel video di oggi parleremo anche di qualcosa relativo alla season 9 dovrei riuscire a trovarne il tempo vedremo un video dell'evento in alta definizione almeno di una parte dell'evento con un oggetto super super misterioso magari cercheremo di capirci qualcosa insieme e volevo anche mostrarvi non potevano non chiudere dopo il bug del vulcano con un altro bug eccezionale che oramai io sono contento di farvi vedere perché gg per i mega bug di fortnite prima di iniziare però voglio ringraziare tutti quelli che utilizzano nello shop il mio codice creator xioderone grazie di cuore ragazzi per sostenermi e mi raccomando iscrivetevi al canale ma soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima ragazzi eia prima c'è la domandina ve la devo fare perché sapete che ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti qua sotto e la domandina dai ragazzi l'avete forse già capita è una domanda attuale di qualcosa che appena arrivato ve la faccio ma a te come ti sembra la nuova bomba ombra dai raga patch 851 l'oggetto che è arrivato è la nuova granata e mancava solamente che mettessero in game la possibilità di sparare raggi rasar dagli occhi e direi che ci siamo cioè hanno fatto una bomba che ti fa diventare invisibile ok io mi rimetto mi rimetto a voi ragazzi mi rimetto a voi e i vostri giudizi perché sono curioso di sapere che cosa ne pensate mi raccomando scrivetemelo qui sotto ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vederlo eccolo qua l'oggetto misterioso dell'evento in alta definizione prima di approfondirlo voglio farvi vedere ragazzi lo rivediamo in questa immagine molto più dettagliata proprio tutto l'evento in alta definizione eccolo qua ragazzi lasciate perdere ovviamente il background di picco polare non è quello importante ci sono i sei pilastri che conterranno un oggetto da riportare in game l'evento si chiama unvaulted hell event in inglese quindi evento di unvaulted vault vuol dire bannare di sbannamento tra virgolette e la descrizione sarà make your choice quindi fai la tua scelta non sappiamo in che modo io credo ragazzi che semplicemente il nostro personaggio dovrà o picconare o attraversare uno di questi pilastri contenenti appunto come state vedendo sei oggetti tolti rimossi dal gioco e l'oggetto che avrà avuto il maggior numero di personaggi che lo hanno scelto era riportato probabilmente per tutta la season 9 ma soffermiamoci un secondo ragazzi su questa immagine quella che avevate già visto prima ha un nome questa scrivania a parte che non si sa bene perché ci sia una scrivania in mezzo al nulla ma lo vedremo dopo vi dico già un'anticipazione da questa radio quella lì che vedete uscirà la musica originale della season numero 1 quindi una chicca per i player oggi ma questa ragazzi invece ha proprio un nome si chiama mask qualcosa non mi ricordo comunque strange mask una roba del genere ed è molto probabile che sia un elemento che ci possa fare un piccolo spoiler sulla trama della season numero 9 voi ragazzi cosa pensate per la season 9 qual è la trama io credo che centri non lo so una specie di apocalisse futuristica o comunque una roba relativa ai robot veri e propri non saprei cosa dire questa maschera è davvero interessante perché vista così non non saprei a che cosa associarla non so perché mi richiama un attimino tipo un rettile un lucertolone non saprei ragazzi magari a voi viene in mente qualcosa quindi se avete delle idee sono assolutamente bene accette proprio qui sotto ma andiamo avanti ragazzi e parliamo anche di un elemento interessante una piccola chicca che qualcuno ha notato questa schermata sicuramente l'avete riconosciuta è la schermata di caricamento che ci hanno dato al completamento delle sfide di questa settimana ma guardate un po ragazzi cosa vi sto cerchiando vedete quell'oggetto là forse non lo vedete bene perché è piccolino lo vediamo un po più zoomato è una jeep ragazzi è un veicolo non presente in game attualmente e probabilmente qualcuno azzarda a dire che non sarà parte della scena come potrebbero essere ad esempio le macchine quelle che ci sono a sponde del saccheggio ma potrebbe essere un nuovo veicolo guidabile nella season numero 9 è una piccolezza che giustamente gli occhi più attenti hanno notato io lo riporto a voi e dai un bel nuovo veicolo ci starebbe assolutamente un casino anche perché attualmente non abbiamo più veicoli che portino in giro un team completo ci sono le pallette i drift board i quad e i cannoni che vabbè però non sono dei veicoli ma andiamo avanti ragazzi e finalmente ecco qua invece l'orario dell'evento disponde del saccheggio ufficiale per noi l'orario sarà questo sabato alle ore 21 ragazzi ci sono tutti i fusi orari noi dobbiamo guardare western europe quindi non perdete ovviamente ragazzi io sarò in live quindi ve lo posso già dire perché nello stesso tempo ci saranno le qualifiche in duo per la world cup io prenderò obbligatoriamente un piccolo break e andrò insieme a voi a vedere l'evento staremo a vedere davvero che cavolo succederà questo comunque è l'orario ufficiale di inizio ma chiudiamo chiudiamo ma andiamo avanti ragazzi con la shadow bomb ne abbiamo già parlato a inizio del video ma voglio farvi vedere due spezzoni che sono davvero molto molto curiosi tra cui anche il grandissimo bug della stessa il primo video ragazzi è la schermata è il video introduttivo della shadow che è davvero bellissimo chi se lo fosse perso lo può vedere come vedete il ninja tira su di sé la bomba sapete ragazzi che potete fare il doppio salto è una figata forse non tutti lo sanno passa dietro a due avversari e sparando un colpo violentissimo di rpg li tira giù quindi due volte il tasto che utilizzate per il salto e potrete appunto spiccarne uno doppio che vi aiuterà senz'altro ma il vero bug ragazzi lo troviamo in questo altro spezzone di video forse non lo sapete ma se utilizzate la shadow sopra una parete perpendicolare l'effetto dura finché non toccate il suolo sono già passati 11 secondi da quando il giocatore ha utilizzato la bomba ed è solo nel momento in cui tocca il suolo senza neanche tra l'altro prendendo danno prendere danno che l'effetto torna normale quindi il giocatore torna visibile una cosa che probabilmente se non è già stata fissata verrà fatto verrà fatta molto presto perché è davvero assurdo cioè tu puoi saltare sopra tutte le strutture nemiche e finché non tocchi il suolo essere invisibile e quindi ovviamente op ma andiamo avanti e chiudiamo ragazzi con l'ultima immagine presente nei file di gioco di questa patch 8.51 se ancora non avete capito di che cosa si tratta questo ragazzi è la texture del ghiacciaio rimasto a picco polare quindi nel bioma ghiacciato con la patch 8 e 51 sono arrivate nuove crepe che continuano a farci capire che nella season 9 o sarà distrutto o molto probabilmente verrà distrutto prima di iniziare la season magari con un trailer quindi aspettiamoci di vedere il castello di picco polare completamente libero dai ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video delle news mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale codice creator xoderone noi ci vediamo alle 13 in live ciao